Altri due soggetti sarebbero stati fermati secondo indiscrezioni con l'accusa di essere stati gli scafisti dell'imbarcazione che ieri mattina si è infranta contro una secca davanti alla costa di Cutro nel Crotonese con la conseguente caduta in mare dei migranti che si trovavano a bordo. Le vittime accertate del nubifragio al momento sono 59 tra cui molti bambini e sono decine i dispersi, 80 lo ricordiamo i superstiti. Le due persone che sarebbero in stato di fermo si aggiungono a quella di nazionalità turca già bloccata con la stessa accusa nella giornata di ieri. Intanto il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, ha disposto di far abbassare a mezz'asta le bandiere sulla facciata di Palazzo Campanella, sede dell'Assemblea calabrese, in segno di lutto per l'ennesima tragedia dei migranti nel Mediterraneo che ha provocato decine di morti tra cui anche donne e bambini. Nell'esprimere il cordoglio del Consiglio regionale per le vittime e nel ringraziare i soccorritori per l'impegno solerte che hanno immediatamente dispiegato a ospico, sottolinea il presidente Mancuso, che l'Unione Europea e la Comunità Internazionale assumano finalmente la responsabilità di governare i flussi epocali di migranti perché tragedie come quella davanti alle coste crotonesi non abbiano più a ripetersi.